Teresa Piccione, la candidata che si è ritirata dalla corsa per protesta contro una competizione falsa e senza regole, ha deciso di rivolgersi alla magistratura. Certo è che non si faranno le surreali consultazioni a gazebo con un solo concorrente e che la Commissione regionale per il Congresso ha concluso i suoi lavori comunicando l'elezione di Davide Faraone alla carica di segretario del PD in Sicilia. Si tratta di una comunicazione appunto perché la proclamazione vera e propria dovrà farla l'Assemblea regionale che sarà monca e monocolore. Avrà 180 membri e non 300 perché mancano i 120 designati dalle assemblee provinciali mai svolte. E quei 180 che si insederanno saranno tutti esponenti delle liste di Faraone, dato che la coalizione della Piccione, espressione dell'area Zingaretti, non ha presentato i propri candidati, situazione decisamente senza precedenti. La mozione Piccione ritiene legittima l'elezione di Faraone, in quanto l'organismo che si occupa del Congresso, si legge nel verbale, avrebbe dovuto limitarsi alla convocazione dell'Assemblea. Piccione non riconosce il successo dell'avversario e Faraone, oggi, è nei fatti segretario di metà partito. Per essere precisi, del partito di Renzi e Micichè affermano esponenti storici del partito, inviperiti per la caduta di questi giorni. Il verbale della Commissione per il Congresso, presieduto dal segretario uscente Fausto Raciti, racconta meglio di tantissimi sussurri il clima della riunione che si è svolta a porte chiuse. In una sede di partito ormai dismessa perché il PD non ha più i soldi per pagare l'affitto e senza più neppure una fotocopiatrice, gli esponenti dell'area Piccione hanno chiesto di avere almeno le foto della lista di Faraone. L'ex sottosegretario, contattato telefonicamente, ha rifiutato per ragione di privacy, impegnandosi a consegnare personalmente gli elenchi ai componenti della Commissione.